Ciao a tutti, benvenuti nel canale. In questo video vi mostrerò la posizione delle sole due monete viola della settimana 3 per la stagione 3 di Fortnite capitolo 2. In questo video parlo perché le monete sono solo due e quindi non posso mettere la musichetta in sottofondo. La prima moneta si trova qui praticamente sulla montagnetta vicino Borgo Bislacco, qui, vedete? E' inconfondibile, la potete vedere fin da subito, eccola qui, pronta per essere raccolta. Vediamo ora la posizione della seconda moneta. La seconda moneta si trova praticamente qui, nella parte alta di Parco Pacifico, su questa montagnetta, e anche in questo caso potete vederla già dalla lontananza, quindi non potete sbagliarvi, vedete? E' su questa montagnetta. Quindi questa è la seconda moneta viola presente nella settimana 3 della stagione 3 di Fortnite capitolo 2.